Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? A ventidue anni. Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa quel libro? Costa 40 euro. Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti? A Madrid? No, abito a Lisbona. Come te rovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Suono. Suonare. Grido. Gridare. Baccio. 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 Ballare. 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 Dormire. Gioco. Giocare. Guida. Guidare. Cucina. Cucina. Cucinare. Amore. Amare. Pensiero. Pensare. Studio. Studiare. Invito. Invitare. Viaggio. Viaggiare. Sbaglio. Sbagliare. Viaggio. Viaggiare. Taglio. Tagliare. Lavaggio. Lavare. Salto. Saltare. Puntura. Pungere. Valore. Valere. Valere. Cucino. Che. Cui. Mi piace il vestito che hai preso. Ecco gli amici che mi aiutano. Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Il cane che ti inseguiva è mio. Chiamo Lisa, di cui non so nulla. Qui c'è una festa che mi piace. Il quale? Claudio, il quale è mio amico, è alto. La frutta, la quale è buona, fa bene. Ecco Elisa, la quale è molto bella. L'auto, la quale è qui fuori, è rotta. Vado dal nonno, il quale è a casa. Lo dico a lei, la quale non sa nulla. Chi? Chi non cucina, poi lava i piatti. Chi vuole partecipare, si iscrive. Non mi piace chi è maleducato. So chi ha fatto questo dipinto. Parlo con chi mi sta ascoltando. Non ho visto chi è andato via. L'ho visto oggi in piazza. Ieri pioveva e tirava vento. Finisco domani di fare le pulizie. Dopo te lo porto a scuola. Gli parlo spesso dei miei amici. Domani sarà un bel giorno. Inizio domani con il progetto. L'ho visto spesso in macchina. Domani andiamo in vacanza. Ieri ho pulito tutta la casa. Ti ho visto oggi al negozio. Ieri ho perso gli occhiali. Domani vado fuori per cena. Domani devo guidare molto. Ho saputo adesso la notizia. Spesso sono via fino a sera. Domani ci guardiamo un film. Dubbio. 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 Suono. Suono Albicocca Albicocca Gatto Gatto Colazione Colazione Bello Bello Cena Cena Filetto Filetto Completo 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 Anno Anno Bistecca Bistecca Sapere Sapere Basso Basso Caffè 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 Mamma Mamma Libro 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 Spaghetti 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 Finestra 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 Salita 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 Tutto 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 Invitiamo Invitiamo Mio zio Descrivete Vostro Padre Racconto Racconto La mia avventura Presento Mia sorella Presentano Le loro sorelle Invitiamo Le nostre amiche Prendete I vostri Libri Descrivo I miei Genitori Presentano La loro Madre Chiamo Mio Padre Questo Suo Cugino Ho perduto Un mio Caro Zio Oggi Sono Con i miei Amici È a cena Con sua Moglie Lisa È partita Per le sue Vacanze Maria Ha piantato Le rose In giardino I ragazzi Sono partiti Con l'auto I ragazzi Hanno visto La partita Giulia E Nina Perché Siete Uscite? A cena Marco Ha mangiato Tutto Gli altri Sono rimasti A digiuno Noi abbiamo studiato Tutto il giorno Noi siamo stanchi Di giocare A calcio Ieri Siamo andati Via Molto Tardi Voi Avete Studiato Per l'esame Di oggi Io Sono andato A Firenze Due anni Fa Tu sei diventato Svogliato E stanco Tu sei diventata Molto più curiosa Ho messo la sveglia Alle sette Tira le tende C'è troppa luce Il tuo vestito È nell'armadio Non ho la televisione In camera Ti pettini Davanti Allo specchio Ho messo Le coperte Sul letto Questo cuscino È molto comodo Ho molte penne Sulla scrivania Abbiamo tanti libri Sugli scaffali Ho una lampada blu Sul comodino Mi piacciono Mi piacciono i letti Grandi Il mio pigiama È blu e grigio Vicino a letto Ho un tappeto Dormo Dormo su un materasso doppio Dove pranzate domani? Dove pranzate domani? Dove pranzerete domani? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria stasera? Con chi uscirà Maria stasera? Quando inizia il tuo lavoro? Quando inizierà il tuo lavoro? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Dove andrei questa sera? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Io cantavo Cantassi Io facevo Facessi Io stavo Stessi Lui era Fosse Lui cominciava Cominciasse Lui leggeva Leggesse Io dicevo Dicessi Noi bevevamo Noi bevevamo Bevessimo Noi davamo Dessimo Io guardavo guardassi tu capivi capissi io bevevo bevessi tu dormivi dormissi tu vedevi vedessi tu eri fossi lei aveva avesse noi davamo dessimo lui faceva facesse voi eravate foste voi uscivate usciste lei diceva dicesse noi sapevamo sapessimo voi potevate poteste noi pagavamo pagassimo voi mangiavate mangiaste loro arrivavano arrivassero loro venivano venissero loro avevano avessero non parla mi voi poteste mi vi Grazie a tutti